buongiorno e buon 8 marzo a tutte e a tutti buongiorno presidente sono molto felice e onorata di essere qui ero sempre la prima a varcare l'ingresso della scuola e ci soffrivo la mattina presto d'inverno il buio era così fitto da sembrarmi insormontabile l'atrio degli elementari era il solo rettangolo di luce nella strada io scendevo dall'auto di mia madre e salivo di corsa alla gradinata poi mi sedevo nel silenzio dell'aula vuota e aspettavo gli altri bambini quelli che avevano madri che non lavoravano o forse sì ma con orari diversi più consone a una famiglia dove avevo imparato a vergognarmi di una madre che lavora non avrei saputo dirlo era scritto nell'aria nei gesti nei racconti che ascoltavo distrattamente ma da qualche parte in me andavano a sedimentarsi le brave donne restano a casa preparano torte sorridono e hanno molta pazienza mia madre aveva pazienza ma fino a un certo punto più che cucinare amava leggere quando un giorno le rinfacciai di avere un lavoro delle amiche dei libri anziché dedicarsi esclusivamente a me lei mi chiese sai qual è la parola più importante la stella polare del vocabolario non dimenticherò mai la serietà con cui la pronunciò come se dovesse scolpirmela nell'anima indipendenza mi spiegò che se da grande non avessi avuto un lavoro una passione un progetto solo mio avrei dovuto sempre dipendere da qualcuno non sarei mai stata libera di diventare me stessa qualche tempo dopo a scuola di fronte a uno stuolo di bambini che negavano a me e alle mie compagne l'accesso al campo da calcio brandì la parola indipendenza come fosse una spada e mi sentì potentissima avevo scoperto che nessuno poteva decidere al mio posto con le altre bambine sfondai il muro di maschi e planai sul prato a braccia spalancate giocammo a pallone per l'intera ricreazione tutti insieme fu l'inizio di un nuovo sguardo l'orizzonte si era fatto più vasto se mia madre aveva la voce e la usava continuamente per discutere di politica per insegnare per arrabbiarsi mia nonna invece no aveva solo le mani seduta al di qua della finestra con un gomitolo di filo in grembo e gli occhiali inforcati riusciva a intrecciare l'uncinetto per ore finché il sole non scendeva quando non stava in poltrona era in cucina a impastare e spadellare non la si sentiva mai dire una parola in più delle solite sempre cortesi se in casa si accendeva una discussione lei con le mani invitava a non litigare cinque figli tirati su da sola e siccome lo stipendio del marito non bastava a iscriverli tutti all'università fu ovvio scegliere di far studiare solo i maschi la geografia di mia nonna coincideva col perimetro dei pavimenti quanto fossero grandi il mondo la storia lei non lo sapeva perché ne era stata tagliata fuori poi si ammalò e a 80 anni finalmente tirò fuori la voce diede un nome preciso a tutte le fatiche le rinunce studia mi ordinò guai a te se non studi e io ormai adolescente compresi con ancora più chiarezza che a una società che mi chiedeva di incarnare una muta desiderabile e innocua bellezza dovevo opporre i miei autentici desideri e quante più parole possibile ho conosciuto tante donne murate vive le cui esistenze sono scivolate via in silenzio e ne ho conosciute molte altre che si sono ribellate ricevendo in cambio disprezzo e diffidenza zitelle poco di buono egoiste che pensano solo alla carriera definite sempre in relazione ad altri come se di per sé non avessero un valore ognuna di noi è o è stata prigioniera di una parola con le sbarre di uno stereotipo feroce di un invito a tacere a farsi da parte a scaricare e sacrificare il proprio talento ancora oggi non veniamo educati a sperimentare la nostra libertà bensì a piacere a sorridere dire grazie a costringere la nostra complessità in una rigida semplificazione che ci pretende attraenti o materne ma mai disubbidienti mai pericolose con le idee e la creatività siamo anzi incoraggiati a soffocarle in nome di una causa più alta l'amore per la famiglia per un uomo ma quanto disamore c'è dietro questa richiesta quanta ingiustizia quanta violenza che gigantesco spreco di intelligenza se chiedi a una persona di rinunciare alla propria voce la stai spogliando di se stessa è questo che accade ovunque di continuo ogni volta che si domanda a una donna di vestire in un certo modo di rinunciare lei al lavoro di occuparsi da sola dei figli di dismettere una passione è così che ho visto impallidire assottigliarsi decine di donne è così che le ho viste finire nel sangue quando hanno deciso di dichiarare la propria indipendenza è così che ho visto sfiorire regredire la società intera a qualunque età latitudine condizione sociale i nostri corpi arrivano prima delle nostre voci il nostro aspetto giudicato prima che le nostre parole possano trovare ascolto le donne vengono mal pagate discriminate sfruttate violentate e uccise perché viene loro negato alla radice il diritto all'identità a essere una persona sostantivo femminile che abbatte le mura di qualsiasi definizione e spalanca le possibilità di espressione la libertà di osare il proprio sogno quando un giorno mia figlia ha dichiarato di voler diventare una principessa le ho suggerito che la strega sarebbe stata un'alternativa ben più eccitante ma sono cattive ha risposto è quello che vogliono farti credere le ho spiegato le streghe sono potenti sanno volare trasformarsi a differenza delle principesse non invecchiano dentro una torre ma sono brutte ha replicato e io mi sono ritrovata di fronte a questo macigno che ci passiamo di generazione in generazione a questo imperativo di perfezione astratta e accessoria noi non siamo fiori le ho risposto né gioielli non siamo cose non dobbiamo essere misurate esibite usate gettate quando appassiamo ci scheggiamo e sai perché ero io adesso la madre che lavorava ho ricordato mia nonna sfinita dalla malattia accendersi con una forza straordinaria e dar fiato alle parole che aveva taciuto per una vita intera perché noi parliamo immaginiamo studiamo creiamo siamo vive e non apparteniamo a nessuno